ciao ragazzi games and gaming a noi piacciono molti video come se io sono un grande appassionato ogni tanto mi piace parlare con voi anche di videogiochi di games insomma avevo fatto un video un 8 9 mesi fa annunciando che sarebbe arrivato da dei rumors che mi erano arrivati world tour tennis per ps4 c'è un primo gioco vero e proprio di tennis per la ps4 è così è stato già annunciato c'è già il trailer è già prenotabile il 22 maggio arriverà ci sono già dei primi video stupendi ma soprattutto a sorpresa è uscito a gennaio al 15 gennaio a o tennis faccio questo video perché mi sono arrivati dei messaggi parecchi messaggi donne uomini appassionati genitori ragazzi oramai videogiochi giocano anche le persone di 80 anni vi dico che io in famiglia ho una persona un parente di quasi 80 anni che gioca di brutto appeso ed è anche ed è anche bravo e batti i nipoti e figli chiunque oramai i giochi di oggi sono talmente evoluti che non c'è più un'età anzi bisogna partire da essere maggiorane per certi contenuti quindi è un po globalizzato il mondo dei videogame è un divertimento sano non bisogna esagerare non giocate 14 ore giocate qualche ora al giorno può essere sufficiente bisogna sempre avere un limite in tutto secondo me un equilibrio parliamo di questi giochi di tennis perché appunto tanti mi chiedono ma a o tennis di parlare di questo tennis come avevo parlato i world tour e voi essere imparziale a o tennis non ne ho parlato perché un gioco che è uscito a sorpresa è l'unico competitor attualmente sul mercato e l'unico gioco di tennis attualmente sul mercato per playstation 4 chi non lo conosce è uscito in australia a metà gennaio a o tennis che ma australian open tennis quindi dedicato al torneo slam uno dei quattro tornei slam dell'anno più importanti di tennis professionistico che è l'australian open che ha vinto roger federer e appunto questo gioco e diciamo richiama il nome dell'australian open ma è un gioco globale assolutamente con carriera tantissimi giocatori si possono fare tutti i tornei del mondo i 500 i 1000 i master di slam quindi un gioco completo era uscito con qualche critica cioè sembrava graficamente molto valido ma la giocabilità non convinceva i movimenti erano scattosi giochi di tennis sono difficili da realizzare era il primo è una big bang no non era big bang interactive mi sembra big gun studios adesso non mi ricordo il produttore la big bang è quella che fanno world through tennis comunque è una è un lotto di produttori un set di produttori di videogames che già ha fatto altri giochi importanti come tss che il gioco dell'isola di man delle moto con la corsa di moto pericolosissima spericolata sull'isola della gran bretagna tra scuazia la gran bretagna dell'irlanda la gran bretagna stupendo e andate a vedere anche quello perché lo stesso produttore di auto tennis ha lanciato appunto tss l'isola di man che il gioco della corsa superbike più pericolosa 60 chilometri intorno all'isola più famosa del mondo 70 anni che c'è questa corsa e il gioco è veramente riprodotto in una maniera in 4k maniacale ed è già sullo store europeo non è ancora uscito nei negozi fisicamente gli stessi produttori appunto di questo a o tennis che è appunto questo gioco che è uscito sullo store però solo australiano questo cosa vuol dire oggi una persona in particolare ma già altri ma l'avano chiesto dove era acquistabile mi ha chiesto come si può acquistare il gioco io gli ho risposto si fa bisogna fare un account australiano e poi in euro pagare il gioco e scaricarlo direttamente in formato digitale già giocabile quindi voi potete pagarlo scaricarlo tranquillamente giocare sarà in lingua inglese poi magari anche la lingua italiana il gioco all'interno selezionabile questo non lo so perché non ho il gioco e quindi avendo un account australiano si può ordinare su ebay tranquillamente in 15 giorni arriva a casa dall'ustralia perché l'ustralia è vendita proprio copertina ps4 anche nei negozi non è ancora uscito in europa perché perché essendo un gioco nuovo molto difficile da produrre i produttori stessi hanno deciso di aspettare un attimo per vedere come andava il gioco come era per sbilanciarsi in effetti con varie patch oggi mi pare siano quasi 12 patch 13 patch tipo 20 giga aggiuntivi siamo alla 1.17 il gioco ha cambiato completamente faccia partendo da un rating di due stelle nel market sul psn adesso ne ha quattro di stelle quindi il gioco è migliorato tantissimo le animazioni sono più convincenti la grafica è molto valida e sembrerebbe un vero competitor di world tour tennis ps4 che sta arrivando che veramente il continuo di top spin dei 2k quindi l'ultimo top scusate top spin 4 per ps3 che ancora io ci gioco che è favoloso figuratevi questo per ps4 però questo tennis partito come non un competitor ma sicuramente appena esce world tour tennis non lo guarderà nessuno perché invece adesso si sta guadagnando critica punteggi grafica molto valida sembra addirittura competitiva con quella di world tour tennis no qualcosa in più siamo lì giocabilità migliorate giocatori aggiunti anche con licenza comunque si possono creare tutti i giocatori attuali con pochi parametri ci sono parecchie patch anche distribuiti da terzi che poi vi fanno aggiungere tutti i giocatori del roster del mondo fino al 120esimo posto e il gioco è interessante per poterlo scaricare appunto bisogna ordinare su ebay ovvero un account australiano ma a breve arriverà anche in europa secondo me è ora che lo facciano uscire anche in europa i produttori perché è un po passato un po di tempo da metà gennaio pare che entro marzo aprile doveva arrivare in europa quindi ci siamo c'è chi diceva già da oggi o dal massimo entro la metà di aprile arriva sullo store europeo e nei negozi prima arriverà sullo store sarà solo scaricabile e poi arriverà nei negozi quindi ci troveremo a breve una o tennis sullo store europeo e nei negozi e un mese neanche dopo world tour tennis quindi per ps4 world tour tennis e auto tennis due giochi in tre mesi quando per quattro anni non ne abbiamo avuti finalmente il tennis incomincia si parla anche della ea che con dopo grande slam tennis 2 vorrebbe fare un grande slam tennis anche per ps4 sarebbe un colpo veramente visto anche la potenzialità oggi del 4k di xbox one xbox one x e ps4 pro oltre a xbox one normale anche ps4 male che comunque hanno grandi potenzialità avere giochi di tennis di alto livello sarebbe veramente una cosa io sono è il mio primo sport è la mia prima passione quindi avere giochi di tennis belli è tanta roba ma questo gioco a sorpresa che sembrava più un gioco così volante che poter sta in guadagnando consenso e questo hotel sta migliorando quindi dato un'occhiata sui video su youtube ce n'è ne parano lo hanno criticato ma se andate a vedere le ultime recensioni sono migliorate molto e sulla pagina facebook a o tennis trovate il produttore ci sono tutte le patch o tutti gli aggiornamenti le richieste degli utenti ancora non è perfetto ma potrebbe essere un'alternativa a un competitor per world world tour tennis che non sembrava averlo all'inizio quindi adesso anche la 2k studios si trova con il suo world tour tennis ad avere un competitor inaspettato meglio per il mercato sempre positivo soprattutto perché appassionato di giochi di tennis e vuole avere due giochi e non uno solo ecco questo è un po tutto insomma due giochi in arrivo uno world tour tennis ps4 che si appresta come il leader di turno il continuo di top spin grande grafica grande giocabilità l'altro partito in sordina o tennis non lo conoscono ancora perché in europa non è uscito è uscito solo in australia sta arrivando in europa 12 patch di correzione sembra essere diventato un gioco molto valido molto vicino a world tour tennis e quindi ci troviamo due giochi prezzi sono sempre quelli di mercato forse ci sarà qualche sconto poi eventuale adesso già magari di auto tennis con poche fuori ma sicuramente la notizia che finalmente arrivano due giochi di tennis in un solo colpo da 4 paolo si da 4 paolo da 4k e te che da poi lo vuole tutto ciao e grazie come sempre